bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Marco e oggi vi porto su avanti un'altra andiamo sul gioco finale iniziamo giugno e luglio in che mese inizia l'estate quindi inizia a no come in che mese inizia a vero scusate come si trova a vedere ah Montini o buono qual è il nome della famiglia Paolo V Mattia Summer nel 1996 la capitale della Turchia sì o no qui qua qua sono gemelli no credo di Stefano nel 1959 oh madonna Bruno Bellino che registro di voce a Rigoletto Terra o Marte qual è Bacco Betoven che ha composto per Elisa a Betoven no guardate dove sono arrivato abbiamo congelato abbiamo congelato vediamo macellaio Istanbul malattia no qual'era me lo so scordata eeeh dovrebbe essere avrebbe perso nooo ciao ragazzi il video finisce qua lasciate il like che vi è piaciuto iscrivetevi e ciao ciao